Nei drive-in sull'intero territorio provinciale, dagli 800 ai 1000 tamponi al giorno, con quale percentuale di positività? Siamo passati dai 50 positivi al giorno 3-4 settimane fa e adesso registriamo anche punte di 150. 70-75 hanno zero sintomi, 20-25 sono pauci sintomatici e un 3-4-5% una sintomatologia più significativa. I focolai più attentamente monitorati restano Comelico, Cadore e Ampezzano. Aumentano anche i controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle disposizioni governative. I report sono confortanti, abbiamo avuto nella settimana scorsa soltanto 5 sanzioni su più di un migliaio di controlli. Ma il prefetto non perde di vista l'altro fenomeno che si lega sempre alle emergenze, la criminalità che arriva come un falco per approfittarne ed ha predisposto un protocollo di verifiche. Eventuali passaggi di proprietà, acquisti di quote eccetera nelle attività turistiche perché il comparto che qui prevalentemente fa l'economia della provincia e che ha sofferto molto è quello del turismo. Ovviamente altrettanto intensa è l'attività che riguarda il monitoraggio, sempre sul piano della prevenzione antimafia, dei lavori che sono in corso per i mondiali di sci del 2021. Qui ad oggi abbiamo già adottato due importanti interdittive.